Il Carnevale della Cultura torna a riempire teatri, musei, archivi, sale da musica a Venezia durante il Carnevale. Abbiamo costruito un programma fittissimo che coinvolge oltre 30 istituzioni culturali, per la gran parte distribuiti tra Venezia, Terraferma, ma anche i comuni della grande area veneziana, con una programmazione all'insegna di tre assi principali. Il primo è quello dedicato al teatro, alla musica e al cinema per i bambini. Pensiamo che il Carnevale sia una grande festa di avvicinamento di questo gruppo di giovani spettatori alle arti e così realizziamo a Mestre il Carnival Festival Kids dedicato al teatro d'attore di figure ed oggetto nei teatri veneziani di Mestre, Momo, Candiani, Toniolo, con otto spettacoli, quattro compagnie impegnate, una programmazione in gran parte gratuita, dal domenica 19 a martedì grasso 28 febbraio. In quel contesto, in quel grande contenitore abbiamo anche realizzato un progetto laboratoriale che mette insieme il Fab Lab e la biblioteca Vezze, insieme a una scuola elementare, per realizzare delle scenografie con stampa 3D e taglio laser da mettere all'interno di uno spettacolo, quindi una contaminazione divertente, per poi proseguire in centro storico, alla Fondazione Querini Stampalia, le storie animate, musicate e drammatizzate in giro per casa Querini Stampalia e i laboratori del Palazzetto Bruzzane. Il secondo asse, se vogliamo, sintetizzare una programmazione ricchissima che anzi invito a esplorare sul sito carnevale.venezia.it è quello dedicato allo spettacolo nei luoghi del silenzio. Abbiamo pensato a luoghi dove normalmente si studia, si contempla, si partecipa ad attività culturali silenziose e invece portiamo delle drammatizzazioni, delle spettacolarizzazioni teatrali effimere, veloci, brillanti, alcuni esempi a Palazzo Grimani mettiamo in scena un Romeo e Giulietta itinerante, a Palazzo Mocenigo curiamo insieme ad Alessandro Bressanello una messa in scena ironica del teatro alla moda di Marcello, al Padiglione delle Navi un racconto dedicato alla vanità al femminile con Mauro Avogadro e Michela Mocchiutti e poi alla chiesa di San Lio un interessantissimo allestimento che rende spettacolare il tema della vestizione della chiesa con profumi, con oggetti, con tessuti, in particolare concentrato intorno alla vestizione della Madonna della Salute. Non è vanità ma è proiezione e tensione verso l'alto. E infine chiudiamo con una serie di percorsi musicali per lo più all'Ateneo Veneto con un concerto a quattro mani di Elio e Anna Lazzarini domenica 26, un percorso diciamo molto spiritoso e divertente per voce e proiezioni dedicato alle musiche di George Gershwin e alle coreografie di Baschi Berkley venerdì 24 febbraio e desidero ricordare anche un bellissimo programma, un'operetta dedicata al tema della propaganda in musica votate per me, vota per me, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista curato dal Palazzetto Abruzzane, uno dei nostri partner. Un programma quindi ricchissimo dove le diverse realtà culturali della città hanno lavorato insieme a vela per mettere in scena oltre 50 eventi unici con circa 140 repliche complessive. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.